Ciao a tutti, spero che state bene a casa, è un momento difficile per tutti noi. Io sto bene in questo periodo, è molto difficile, non c'è tanto da fare, si vede che ho il tutore addosso e ho un piccolo festire dal posto, dalla mano destro, ma spero che non è niente, sto allenando, sto facendo tutto in questo periodo. Ciao a tutti, tanti di voi mi stanno chiedendo cosa faccio durante la mia giornata. Io sto fruttando questo tempo di mostrare il mio lato creativo, adesso sto facendo un pezzo per la mia bellissima nuova ragazza, queste sunflowers, si vede in giro che sto facendo tanti altri pezzi, ma questo è il mio preferimento per me. Un'altra cosa che sto facendo in questo periodo, anzi sto facendo da bel po', è un po' di fermentazione. Ok, questo qua è un hot sauce, una salsa piccante che adesso è un settimana così, questo invece è un po' di pickles. Questo invece è il mio preferito, si chiama kombucha, che è un tè fermentato, è abbastanza schifo di vedere. Questo è un tè fermentato, che è pronto dentro tre bottiglie adesso, tra un paio di giorni sarà pronto di bere. e in questo periodo bevo questa invece la birra, così rimango un po' più sano. Come all'alimento è abbastanza difficile, ma questa è un mio bisogno di lavoro per il momento. Adesso abbiamo il medescenbo per fare gli abdominali, i glubi, il filasto, non ce l'ho tanto, ma è abbastanza. Ma comunque è il mio preferito, è il momento di mettere un po' di chili nel zaino e andare su, giù, nel scale e fuori, finché sono morto. Questo è il modo più efficace per me in questo momento di allenare. La mia famiglia a New Zealand stanno bene, hanno iniziato un periodo di lockdown come qua. A New Zealand non ci sono tantissimi casi come qua, ma comunque le situazioni là sta peggiorando. come il governo da New Zealand hanno preso come una roba seria, come hanno chiuso tutto per un periodo di quattro settimane. Sono un amante della PlayStation, ma purtroppo al momento è abbastanza difficile giocare. Ma ho provato un vecchio clip da un partito che ha vinto. Ti faccio vedere il bel Leo Sarto, trapalato. Ci senti proprio la gioia di tutti che Leo Sarto non ha vinto. Questo è il mio bambino a due, è il miglior compagno che puoi avere in questo tempo. Le dà amore sempre, Cocle è il numero uno. No, due, anzi. Grazie a tutti voi di aver passato una giornata a casa mia. Spero di vederti tutti presto al Manico, di giocare, di allenare, di vivere la vita normale, di andare a fare un bel operativo tutti assieme, un bello oro proprio. Anche di creare i belli momenti come questo, che ho sempre al fianco mio letto. Ciao Lioni.